allora continuiamo la nostra partita come detto siamo a pari con i video sul canale quindi dobbiamo vedere un attimino di controllare le nostre piantine che avevamo appena piantato con il nuovo aggiornamento vediamo se necessitano di acqua che è l'unica cosa che li possiamo fare e poi abbiamo una mega consegna per la balena fatemi ok consegna 9x50 allora 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 prima di tutto fatemi vedere a livello di quantitativi avevamo preso qualcosa 9x50 ah no già ce l'avevamo non mi ricordavo questa cosa l'avevamo fatto va bene eroina più bicarbonato l'avevamo fatto eroina più bicarbonato coca bicarbonato ok un po' di cose le avevamo fatte ma non mi ricordo manco quello che stava dall'altro lato ma va bene mo ci aggiorniamo allora fatemi vedere dov'è che lo devo andare a portare il fattore di esposizione era aumentato un pochino perché avevamo messo un po' di soldi sul baracchino allora si la live poi la riporto yes dobbiamo andarla a consegnare acqua vabbè ci sta onesto riesco a portarmi pure dell'acquetta che non avevamo qua immagino si fatemi vedere una cosa fatte la pesca vabbè la dobbiamo pure ricomprare l'acquetta tutto sommato ci potremmo passare anche adesso a comprare l'acquetta no no un po' l'avevamo comprata ma non mi ricordo se l'avevamo lasciata tutta dall'altro lato mi porto un 400 dollari di acqua è pure troppo però vabbè sti cazzo non lo so per quanto riguarda the last of us 2 ragazzi quando riusciamo a farlo manca ancora un po' quindi vediamo un pochino allora la consegna della gang la devo fare da quel lato orco 2 la polis anche lì c'è la polis la mode corsa dobbiamo cercare di non farci beccare perché è già un pochino aumentato il il rischio allora dobbiamo lasciarlo qui se non sbaglio yes 9 per 50 tac ok poi andiamo ad incontrare gustavo l'audio di gioco è basso un pochino lo posso alzare fatemi sapere tanto è uguale nel senso se può alzare tranquillamente allora no vado vado a vedere se posso comprare l'acqua signori se riusciamo si alla fine pian piano aumenterà sempre fino ad arrivare a un quantitativo abbastanza abnorme di consegna per io lo chiamo balena anche se è ballena là però balena è più simpatico dai allora vediamo come detto c'è gente che gira e non gli dicono niente perché noi poveri dobbiamo essere così che poi per dire nessuno può girare questa c'è il negozio aperto dimmi che hai rifatto carica di acqua bravissima arrivederci scavallamo allora piano piano che magari non c'è becca eeeh merda merda aspetta che sta pieno dei police vabbè facciamo una cosa scusate andiamo direttamente a vedere se la anche se abbiamo uno zaino un po' pesantino però andiamo a controllare se le piante sono ancora vive già che ci stiamo sì sì le possiamo riempire anche nel lavandino ce l'aveva detto yes però non c'ho proprio le bottiglie quindi per il momento le compriamo poi le riempiamo al nostro lavandino di casa allora le piante le abbiamo messe in fondo in culonia andiamo a vedere no breakfast no sì abbiamo pagato un pochino l'acqua sarà acqua preggiata eh sarà acqua molto preggiata allora eh vedi già dobbiamo mettere un po' d'acquetta idrata un'unità di acqua usata cazzo è una bottiglia usi per so che non erano completamente disidratate signori però meglio tanto come detto poi la riempiamo a casa quindi sti cazzi a posto e la percentuale di crescita è il 23% quindi 23% più o meno era una metà di idratazione quindi secondo me si potrebbe aspettare non dico il 50% per idratarle però magari necessitano solo di due annaffiate per la loro crescita completa grazie Ioria grazie per aver steso la sottoscrizione fino a luglio grazie mille Ioria grazie mille dopo di che dopo di che dobbiamo stare un attimino accorti perché noi in realtà per andare dall'altro lato l'acqua conviene che la compriamo tanta sia da sto lato che dall'altro perché l'acqua non riusciamo a metterla in tasca le bottiglie d'acqua come ecco comprensibile effettivamente quindi dovremmo andare di là con lo zaino ma non conviene conviene farsi direttamente le bottiglie di scorta da un lato e dall'altro fatemi vedere se la possiamo riempire qua nel lavandino la luce sta fuori grazie Ioria anche per la resab per il secondo mese grazie mille per quello che fai se non tocca se non la sportiveggiate un abbraccio a tutta la famiglia grazie mille grazie mille Ioria il DLC di tropico no non l'ho fatto ma non ce l'abbiamo noi il lavandino si eccolo usa lavandino ah fa così perfetto in scioltezza proprio ottimo allora eh le piante dall'altro lato come detto ragazzi abbiamo un problema non ci possiamo passare al momento però siccome stavamo al 23% secondo me un altro po' possono pure durare dovevano mettere qualcuno che vendesse l'acqua pure dall'altro lato però sarebbe stato comodo ora 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 prima di andare a ritirare i soldi facciamo che sta cazzo di casa che come non ci sta dai quanto pesano otto bottiglie oddio otto bottiglie d'acqua su una bella cassa però insomma qua nella valigia elegante avevamo 10.000 dollari ne possono ce ne possono entrare 20.000 quindi poi la riempiamo qua mi sa che c'avevamo solo le bombolette va bene questa qua aspettiamo a caricarla mentre qualche consegna in notturna secondo me la possiamo fare anfetamina 12 ma l'avevamo ricaricato ok eroina ce ne abbiamo in quantità cochina ce ne abbiamo in quantità facciamoci qualche consegna classica allora città vecchia aspetta mdma metanfetamina 102 ce l'abbiamo qua 105 ok stiamo carichi di tutto non mi ricordavo molto bene molto bene eeeh allora città vecchia ovest ok città vecchia ovest est facciamo tutte e due ma sta inizio a chiedere abbastanza direi di sì mercato vecchio eh già dovremmo stare attenti 32 allora le pasticche stanno andando come se non ci fossero domani quindi organizziamoci organizziamoci allora estasi 40 40 e 35 eh aspetta mi devo mettere lo zaino lo zaino che non ce l'abbiamo ok facciamo allora da 10 dai 40 40 eeeh 35 poi 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 34 di anfetamina qua quanta ce ne abbiamo poca 30 e 4 eeeh 29 di met 29 ok quindi adesso met ne abbiamo 73 fetamina 86 qua per terra che ci abbiamo coca e bicarbonato altre 60 di estasi va bene eroina eroina in abbondanza e coca ok erbetta ne abbiamo erbetta si allora grazie mille a letalfede per i tre mesi grazie mille letalfede grazie per i tre mesi dire sub grazie mille anche a vitrionel per i 22 grazie mille vitrionel grazie per i 22 mesi e grazie mille a bravo giovanno per i 200 bits grazie mille no della stovas 2 no no a me attualmente non ce l'ho non so neanche se me lo mandano in realtà quindi nel caso devo aspettare l'uscita vedremo vedremo mercato vecchio mercato vecchio 32 di pastic ce l'avevamo 32 di met met pastic e met cazzo solo questo ordino 32 di est pelo pelo 32 e quell'altro che era 32 di met e 21 32 e 21 32 ah vabbè 21 e 21 ok vabbè direi basta per il momento che stiamo apparati allora grazie fabiux grazie mille per il 24esimo mese due anni di sportiveggianza fabiux grazie mille grazie mille per questi due anni gracias namo namo va ci andiamo a riprendere pure i soldi che dite approfittiamo no no non ci andiamo a prendere i soldi perché per prenderci i soldi devo lasciare lo zaino no famo prima la consegna allora dove stanno questi qualcuno già sta qua a sinistra si allora tu che volevi estasi 40 tac questi poi ci daranno un bel po' di soldi quando ah sta qua questo madonna di notte non vedo una sega comunque pure questo 40 molto bene ne abbiamo presa abbastanza secondo me ho fatto male qualche conto no quando andiamo a ritirare qua sono veramente soldi madonna con quale con quale livellamento allora andiamo prima da quest'altro lato prima che passa Apolis siamo a domenica abbiamo scavallato la mezzanotte attenzione allora met 29 met 29 20 e 9 ok c'è sta Apolis qua vicino allora stanno ordinando veramente tanta tanta roba quindi qua prenderemo un bel po' di soldi 34 di amfetamina 30 4 e ora stanno tutti dall'altro lato yes io aia spero non muoiano le piante dall'altro lato della mappa onestamente spero che riusciamo a far passare la notte no vabbè ma questi mica la usano loro questi la rivendono sono i nostri impiegati di fiducia quindi possiamo stare non dico tranquilli ma si arrangerà dove stanno ah no stanno tutti più avanti mi guardo sempre un pochino intorno per quanto poi alla fine la police non si vede quindi allora allora tu volevi 32 di estasi 32 poi 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 eccolo il mitico Pablo grande caschetto occhialo e tuta che diciamo è un po' eccessiva per lavorare di notte in questo campo però Pablo è sprezzante del pericolo apparentemente allora ce n'è uno oltre sto muretto met 21 1 e eh cazzo però che rottura di palle eh ma posso andare in giro a mettere a verniciare i muretti cioè dopo un po' mi rompo i coglioni eh che cos'è bene un pochino ma troppa verniciatura dopo un po' rompe le palle allora attenzione perché abbiamo fatto i conti giusti eh signori fermi tutti grande sportiveggianza in questi calcoli ehm dopodiché dopodiché calcolate che come detto questi qua sono tutte grandi quantità che gli abbiamo dato quindi ci daranno una manicata di soldi quando li andiamo a recuperare ma allo stesso tempo attenzione a picciono no vabbè gli zaini signori se ci mettiamo i soldi così ce li toglie cioè si pulisce diciamo che è un bug solo visivo ehm che volevo dire che mi sa che dobbiamo riordinare un'altra volta le pasticche la meth e quant'altro che non sto più ce l'abbiamo forse un po' dall'altro lato non sto più installa altri filtri in magazzino a mortuare l'odore della marijuana può attirare attenzione ah ok ma non ne bastava uno e che cos'è grazie mille a zaini 1985 per il primo mese benvenuto zaini grazie mille per il primo mese benvenuto tra gli sportiveggianti spero sia il primo mese di tanti no la polis ha trovato la maria ma dove l'ha trovata no se l'ha trovata all'altra casa signori siamo fottuti spero l'abbia trovata al cimitero o qua se l'ha trovata a casa siamo fottuti potrebbe essere un problema perché lì c'era tanta tanta droga no i filtri si i filtri secondo me come li mettiamo mettiamo quello potrebbe essere un problema però signori il fatto che abbiano trovato della droghina vabbè poi andiamo a vedere a fine soldi ne abbiamo però insomma ero in e bicarbonato qua come siamo messi mi sa che questo non ci andava quasi tutti mix diversi questi cazzi no vabbè i soldi sono nascosti ma ci stavano 2000 dollari signori 2000 dollari sono poco rispetto alla alla roba che avevamo lasciato sul tavolo che erano molto molto di più possiamo aumentare ancora un pochino i soldini e li aumentiamo allora modifichiamo una alla volta vediamo 63 64 68 fino a quando non sbagliamo 69 70 scusa facciamo 75 80 90 90 attenzione cioè così buona quella che vendiamo che 200 ma non me lo sta salvando ma vedi che non me lo salva ma signori ma di solito lo metteva questo l'hanno cambiato signori fermi tutti prima lo salvava in automatico vedi che stronzata c'è stavamo c'è stavamo a fomentà anche se le rovina ne stiamo vendendo meno quindi forse conveniva oddio dipende perché ognuno c'è il suo limite 72 aia ma dove le sta trovando allora quelle che abbiamo messo in mezzo alla strada sapevamo che potevano trovarle non era un problema ma la coca se 74 ok vabbè fatemi vedere un attimo una cosa signori grazie mille a the best king per i 100 bits grazie mille niente vabbè i pop up su tutti che la polis ha trovato coca mariguana no al cimitero le ha trovate vedi che le sta toglie però secondo me pure quelle che avevamo qua le ha beccate dovevo mettere più filtri signori queste vabbè che ore sono 1 e 20 vabbè facciamo qualche altra consegna signori nel frattempo due torri due torri due torri 23 di crystal due torri baraccopoli centro sta di là questo c'è questo c'è i soldi vabbè facciamo tutto va sti cazzi pure recuperare i soldi non è male questo 14 crystal dall'altro lato vuole in centro si potrebbe pure fare se facciamo in tempo grazie zuko grazie a zuko per i 19 mesi grazie mille zuko grazie mille per la resamba eh ma noi dei glitch non ce ne frega niente quindi va bene così allora aspetta andiamo prima di qua carica troia no ma che vieni un momento dogli dei coglioni corri 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 e se ne va a po' chiudi 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 tutto olè giustizia è fatta giustizia è fatta più o meno eeeh stiamo un po' avanti dai che ci abbiamo delle cose da consegnare porca troia però era già quasi passato poi è tornato indietro il bastardus perché noi in realtà andiamo anche abbastanza spediti perché non è che possiamo perdere tutto sto tempo qua allora ce ne sta uno qua ma mo passa pure il police eccolo là se non ci vede tanto di guadagnato eeeh non ho preso i pacchetti no volevo ritirare i soldi in realtà però non mi ricordo qual era però forse è meglio fare tutto insieme perché sarebbe la cosa migliore famo così va eeeh oddio crazyanna non lo so devi provare a ricondividerla per farla può pappare eventualmente dai facciamo che prepariamo tutto e facciamo un giro solo che facciamo prima 23 di met cazzo non ce l'abbiamo la met molto bene 18 di amfetamina eeeh eeeh ce l'abbiamo dall'altro lato la met possibile che non ce ne è avanzata un po' da qualche parte questo è un problema un grosso problema salviamo allora fatemi vedere prima chi voleva la met nel caso ecco questo qua quindi questo lo schippiamo e spero che possa aspettare un po' perché dobbiamo andare dall'altro lato a prenderla eeeh uno zaino dall'altro lato ce l'abbiamo anche se non so effettivamente se è rimasta dall'altro lato perché se è entrata la polis siamo fottuti se è entrata la polis siamo fottuti quindi quindi vediamo io spero che abbiano beccato solo l'erbetta che stava al cimitero quella che stava qua dietro perché se hanno beccato quella che stava al laboratorio siamo veramente spacciati però mi ha avvisato pochi secondi prima del del filtro quindi mi sembra strano no un pochino prima dovrebbe avvisare sarebbe un po' una bastardata avvisarmi un secondo prima che la becchino allora vediamo quest'altro 18 ok vabbè possiamo tornare a casa soldi ne abbiamo fatti non tantissimi ma ci sta grazie Andrea grazie ad Andrea torna 78 per il secondo mese sempre un piacere seguirti grazie mille grazie mille Andrea grazie allora adesso andiamo appoggiare lo zainus a casa e vediamo se quello al centro possiamo portargli della roba tanto comunque dobbiamo andare dall'altro lato farete un attimo sì sì poi la riporto sempre su su youtube 14 di crystals 14 ce li abbiamo confeziona allora 14 fammene 7 da 2 così li mettiamo in tasca direttamente se riusciamo così passiamo direttamente dal dal tombino ok ah no qua ce ne entrano solo aspetta un attimo ho già un attimo questo ma dove cazzo va allora nella valigia elegante ci mettiamo questi soldi a questo punto mettici pure un dollaro che pare brutto 20.000 allora questa è quella che dobbiamo andare a magari riciclare eventualmente questi li mettiamo qua 300 dollari me li tengo e lo zaino vuoto lo buttiamo ora andiamo dall'altro lato andiamo dall'altro lato no no si possono caricare sia su youtube che su twitch anche perché non ci sarebbe altrimenti il gioco elencato tra i giochi di youtube o twitch quindi anche perché è un gioco insomma ci si dovrebbe arrivare che anche youtube e twitch capiranno che essendo un gioco anche perché ce ne stanno tanti che fanno dove si fanno cose ben peggiori ma come detto essendo un gioco insomma ci sta ci sta allora oddio no non penso che per il tempo dell'area sub ma dovrebbe ripup appare se condividi immagino allora signori fermi tutti perché qua dobbiamo fare dei controlli a tappeto sulla situazione prima di tutto voglio capire se abbiamo ancora un laboratorio questo è quello che mi preme di più sapere perché se ci hanno fottuto il laboratorio siamo oddio fottuti relativamente perché alla fine ci abbiamo una manicata di soldi però no sono morte le piante però non li hanno beccati il filtro in realtà è secondo me una cosa semplicemente estetica penso che abbiano beccato quelle fuori noi ce l'avevamo un altro filtro no mannaggia la puttana per quanto il filtro dovrebbe stare là e niente queste sono morte signori quindi che idrata cazzo idratare ormai sì però che rottura di coglioni e niente abbiamo buttato un sacco di semi di là non c'erano queste quanto signori queste sono morte saluto alle piante ci dispiace tantissimo ma purtroppo metti via questo proviamo a metterlo là per quanto non credo che ci sia molta differenza poi ne mettiamo altri due da qualche parte fammi controll allora qua la robetta c'è ma le luci non me le puoi lasciare sempre attive per piacere ok qua ci avevamo 100 di meth questa la è stasiata dovevamo ancora preparare 20 è stasiata di zucchero vabbè qua non c'è niente è stasiata di zucchero quanto ce n'abbiamo 88 qua anfetamina eroina meth meth madonna abbiamo un botto di roba pure qua effettivamente poi non le lavoriamo più che ci rompiamo i coglioni grazie a crisienna 96 per i 3 mesi olè grazie mille grazie mille per la resab allora devo andare a portare come detto questo a quello che sta in centro che sta qua praticamente quindi risalviamo un attimo stiamo un attimo accorti e consegniamo solo questo ancora so da sto lato c'è qualche piccolo perché potremmo anche consegnare delle piccole quantità a quelli che stanno in questa zona se richiedono magari quella che noi abbiamo met 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 tienila met e arrivederci così magari iniziamo ad assumere qualche spacciatore come questo qua direttamente anche in questa zona e e livelliamo anche qua affercare un pc che ma oddio della switch versione pro si vocifera da anni in realtà quindi onestamente non saprei se effettivamente ci sarà mai una versione da pro o meno versione da pro versione pro non quindi non ti saprei dire perché qua c'era qualcosa c'è l'acqua ai soldi ok allora facciamo che comunque l'acqua la mettiamo qua pure i soldi vabbè non sono tantissimi tutto fa brodo e lo zaino vuoto lo buttiamo qua dopodichè andiamo a vedere come detto se possiamo fare qualche consegna da sto lato vediamo un pochino signori se c'è qualche dobbiamo sempre andare da quell'altro che spero non scappi oddio in realtà non lo so questo ne voleva 23 di met allora met ce n'abbiamo in abbondanza quindi facciamo così poi l'altra la riordiniamo quindi mi fai confezioni prodotto facciamo pacchetti più piccoli perché non so se ci entrano in tasca penso di sì però non se sa mai 23 3 li vado a consegnare a quello là ragazzi perché se no ho paura che mi fallisca la consegna perché non abbiamo tanto tempo mi affaccerei anche in realtà al cimitero per vedere se eventualmente ci hanno beccato queste le piante non lo so andiamo a vedere saranno morte pure questa queste eh sì ce n'è rimasta una che cazzo ne hanno vista una e non le altre mi sembra strano aia eh mi devo portare una bottiglietta d'acqua però lo facciamo al ritorno facciamo al ritorno tanto non riveniamo qua famo una cosa veloce signori eh no questa qua non è quella che ho fatto io è quella di serie no ragazzi le pillole non pillole met non le facciamo più vendiamole tanto il margine di guadagno ci sta lo stesso mi rompo le palle a farle io la coga anfetamina cose così sono più facili la mix acetone di qua di là pressi essicchi insomma una rottura di coglioni non ne vale la pena il gioco non vale la candela caro scusa per l'attesa scusa per l'attesa ci è voluto un po' stiamo delocalizzando i nostri uffici quindi c'è da organizzarsi un po' allora 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 no vabbè io ho arrivato dall'altro lato vediamo se c'è qualcosa che possiamo consegnare orco 2 no ma dai che non mi aveva visto guarda che rompi i coglioni questi dai dovete far perdere tempo porca troia c'ho da annaffiate le piante allora allora queste le avevamo annaffiate stanno bene quella là ce n'è rimasta una pure è una tristezza unica però fatemi vedere anche se possiamo livellare qualcosa allora venditore venditore oppure 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 furtività vabbè riduce riduce la probabilità che tu sei avvistato perquisito incide sulla furtività di notte riduce la possibilità che la purtività durante il giorno famolo un altro di questo la furtività è al massimo signori attenzione quanta steltaggine allora le piante secondo me se mettiamo molti più filtri si potrebbe anche fare se mettiamo più filtri si potrebbe fare ora andiamo dall'altro lato come detto a fare qualche piccola consegna se riusciamo perché sta finendo la notte la notte sta passando come detto vorrei consegnarlo a quelli i piccoli giocati così magari diventano nostri spaccini di fiducia tutto fa brodo così poi gli diamo quantità un po' più grandi guarda passiamo da qua però stando un attimino accorti ok allora andiamo a vedere andiamo a vedere intanto controlliamo se c'è qualcuno effettivamente che qua già vuole diventare dei nostri sbironia sbironia mercato vecchio allora vediamoli uno alla volta se c'è qualcuno ho dei contatti potrebbe c'è ok questo qua assumiamolo assumiamo tutti signori perché intanto vediamo prima se possiamo assumere poi andiamo a vedere che roba vogliono allora mortuaria c'è un po' di gente che vuole roba allora ok allora partiamo da mortuaria mortuaria coca e coca io qua però mi sa che non ce l'ho mi ricordo che ci siamo portati estasi anfetamina eroina met pillole met e no la coca non ce l'ho qua mi spiace ma non ce l'abbiamo grazie bravo grazie per i 12 mesi buon anniversario buon anniversario bravo grazie mille per questo anno grazie mille grazie mille a franzi o franci per i 10 euro oggi si lavora ma la pausa pranzo la dedico alla sportiveggianza grazie mille franci grazie mille per la donation e per il supporto e buon appetito allora buon appetito per la pausa pranzo coca eroina maria coca e niente eroina qualcosina ci avevamo anfetamina 38 eroina 38 ok met vabbè ce n'abbiamo in abbondanza si vediamo vabbè la piantina ragazzi se riusciamo ci passiamo dopo a mettere l'acqua noi dobbiamo caricarci un attimino prima di tutto con lo zaino però andiamo con la valigetta che fa più persona elegante spero che possano resistere un attimino allora questo accettiamo mortuaria est maria non ce l'abbiamo questo ce l'abbiamo mortuaria ce l'abbiamo tanfia mercato vecchio sbirronia eccola l'ha trovata immagino sia quella del cimitero si ah cazzo io ci devo pure andare a fare una consegna ma vabbè eh vabbè quelle esposte ragazzi lo sappiamo che sono eroina 2 2 2 e 3 2 2 e 3 e poi 2 di anfetamina ok vabbè proviamo poi andiamo a prendere andiamo a riprendere i semi adesso i semi e quello il dissipatore di sportiveggianza ce ne vuole un altro anche se in realtà qua non le hanno trovate cioè ancora non le avevano trovate avrebbero probabilmente trovato anche queste però dove cazzo sta questo ma così è imboscato imboscata in realtà 2 di eroina ti è poi abbiamo attenzione ojo sta per passare la nottata quindi dobbiamo un attimino sbrigarci signora con quale steltaggine tra l'altro 2 di eroina poi c'è quello che sta al cimitero dove hanno sequestrato la nostra piantina poverino no quelle dentro casa sono morte pace all'anima loro e ce n'è un altro di là vediamo se riusciamo allora eccolo qua tu proprio qua te dovevi mettere scusa a posto allora lì ci sarebbe anche un banco mat che andrei a utilizzare se non mi mi becca quello che dite dobbiamo metterci in modalità stelta quanti soldi ho 500 e passa vabbè mettiamocene mi avete detto che l'altra volta con 1000 insomma era un po' troppo poteva essere un po' troppo facciamo 600 vediamo se esce l'avviso spero di no occhio ok no per più che altro che dobbiamo comprare un sacco di roba in realtà compresi i semi adesso torniamo a casa cioè a casa torniamo qua perché quello dei semi sta qua cioè in questa zona lo andiamo a richiamare ne ricompriamo un altro po' di semi indoor visto che ci sono morte tutte le piante poi di giorno magari ripassiamo e ci veniamo a prendere un po' più di acqua compriamo un po' più di bottiglie anche se in realtà indoor sti cazzi allora devo prendere un altro po' di vasi un po' di semi allora semi che avevamo erano aspetta facciamo una cosa lasciamo i soldi qua semi di stoner ace lascia questa e prendi uno zainetto chiama il tipo si ce ne abbiamo un paio di semi questo era quello dei semi giusto yes chiamalo si cactus forse ci durerebbe non durante le ore di polizia scrivimi domani che ore sono scusa le sei vabbè ancora ma ci morirebbero probabilmente anche quelli ok ok allora dovremmo andare in realtà anche a ritirare i soldi non so se aspettare allora aspettate un attimo perché qua abbiamo stazione di lavoro non c'è niente questo è zucchero noi qua avevamo l'estasi qua è stasiato di zucchero questo anche è stasiato di zucchero che avevamo fatto mi sembra sempre 20% quindi facciamo così perché queste non so pillole andiamo a mixare 2 4 ecco 5 un po' più complicato dividere poi con 4 mi sembra che ci mettevamo 8 dovrebbero essere di zucchero fa vedere 2 allora proviamo prima così no è 8 8 dovrebbe essere questo uguale all'altro ok effetto amix sempre estasiato di zoo spero di averle messe in ordine effetto è il mix intanto aspettiamo che passi la polizia si ce l'ho vicino il un magazzino in realtà però ormai ho messo questi qua questi non li posso spostare purtroppo una volta che li abbiamo ordinati ce li mette vabbè si poi se ci fregano tutta sta roba sarebbe un bel problema purtroppo questi qua non li possiamo spostare sennò sarebbe stato comodo però muo vediamo dai mai dire ma anzi andiamo a vedere un attimino com'è grande il garage che c'ho addosso niente ok abbiamo in realtà anche questa abbiamo pure questa casa qua di fronte pure questa non sarebbe male in realtà ci sta l'acqua potrebbe andare bene anche questa si ce ne abbiamo tanto per metterle vicine più che altro questa mo che cazzo di casa è però questa è mortuare a centro perché poi devo ordinare i pezzi allora va finito yes allora mi avete detto che dalla stazione di lavoro io posso anche spostare la roba altrove tipo così la sostanza per cristallizzarsi va liquefatta con un solvente no non mi devi cristallizzare ho sbagliato la devi mettere qua a fare le pillole aspetta quanta ne abbiamo qua scusa 48 ah no qua già ci stanno le pillole scusa scusa non mi ricordavo che avevamo già dei pacchetti fatti e ok e queste me le metti là fammi vedere un attimo ok perfetto allora ci avevamo ci avevamo robe ci avevamo robe allora staseo di zucchero quanto ce ne sta qua 88 dimmi che è uguale grande tac 148 queste sono 20 vabbè fa così quelle che c'entrano va bene qui abbiamo la mette che non l'abbiamo tagliata allora diciamo che le pillole forse si potrebbero fare la mette è un po' più una rottura di coglioni mischiare tutto quello bene o male un po' di zucchero questa eroina va bene va bene tra virgolette vabbè andiamo a comprare i semini va tra l'altro non avevo preso i soldi 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 guarda un 2000 1600 quanti cazzo di soldi di semi vogliamo comprare piano piano ed i filtri mo cerchiamo di metterne parecchi vedevo di tanto queste sono morte allora dove sta ok salvatina no vabbè non dovrebbero morire magari erano qualcuno è morto con il mix con l'acetone che non avevo fatto poi evaporare ah vedi qua c'è gente che vuole dei sample ma non è il momento aspetta dove stava quello dai che cazzo mi scavarchi con quale agilità sta dietro la pianta guarda guarda come si imbosca il tipo allora fammi vedere i semini le varietà outdoor ci mettono molto più a crescere ma danno dei prodotti che non richiedono illuminazione artificiale danno più prodotto eh vedi però outdoor comunque da quel lato riusciamo a farlo vediamo proviamo a fare un po' di indoor outdoor facciamo tutto ma che ce ne frega allora mi dai un po' di questi 10 di questi mentre quello indoor mi dai questo questo vabbè potrebbe pure bastare in linea teorica nel dubbio compriamo tutto signori sta a guardare il capello è una rottura di coglioni valore oggetto aspetta mi sa che ne ho comprati troppi però non ho i soldi necessari togli questi 1.9 allora indoor ne abbiamo presi abbastanza outdoor outdoor potrebbe anche andare bene guarda toglimi 4 di questi no me ne devi togliere tutti vabbè per il momento va bene così arrivederci grazie mille a fettine panate per la sottoscrizione per il primo mese grazie mille fettine panate benvenuto tra i subscribers e mi hai fatto venire po' di fettine panate però questa non è una buona cosa grazie mille grazie mille benvenuto tra gli sportive gioanti allora signori torniamo a casa ora i semi i semi i semi i semi allora i semi facciamo una cosa li lascio direttamente in questa non tutti quelli indoor naturalmente li lasciamo qua i semi li possiamo tenere quindi non è un problema outdoor li andiamo a fare dall'altro lato come abbiamo visto allora outdoor li teniamo indoor li mettiamo qua poi andiamo a prendere un altro po' di acquetta quindi facciamo che aspetta perché sto zaino è una merda troppo piccolo anche se però qua da sto lato mi potrebbe servire perché volevo andare a comprare anche l'acqua ma sto zaino non ci entra vabbè facciamo che ci portiamo i soldi me li metti un po' qua 3d acqua le lascio qua indoor 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 outdoor per quanto secondo me anche l'indoor potrebbe convenire mettere dall'altro lato perché destra sinistra sopra e sotto qua una rottura dei coglioni però per il momento facciamo così salviamo semi come detto ne abbiamo dobbiamo andare a vedere quanti filtri possiamo acquistare a livello di attenzione come siamo messi bassissima ottimo merican track non lo so vediamo vediamo un pochino allora in linea teorica non ci dovrebbe arrestare linea molto teorica molto teorica mo vediamo poi non lo so poi penso che ci andiamo a fare una pasta vediamo devo organizzare però per stasera devo cacciare qualcosa oppure dove volevo andare prima l'acqua non credo che riusciamo a comprarla poi tanto la devo portare dall'altro lato ci andiamo dopo per l'acqua andiamo prima a casa dai andiamo prima a casa a vedere quanti soldi abbiamo nel conto se possiamo acquistare cose andiamo a ritirare i soldi da gustavo così ci arriva pure l'altro ordine quindi qua abbiamo i semi outdoor che piazziamo al momento un attimino me li devi mettere qua dentro ok questo zainetto me lo butti no oddio lo puoi lasciare pure qua uno piccolino fa sempre comodo andiamo a richiedere un incontro a gustavo ok e allo stesso tempo vorrei portare quanti soldi li do da questo a mille vabbè sono pochi se può fa se può fa passiamo passiamo da gustavo 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 allora poi vabbè quando i carichi diventeranno veramente grandi ragazzi possiamo pure usare spendere 150 dollari per fare destra sinistra e sti cazzi tanto alla fine ciao gustavo grazie caro mo i soldi dovrebbero essere 17.000 scusa ma poi che c'è dai un altro zaino perché insomma poi inizieranno a diventare un po' tanti i soldi da da ritirare potrebbe diventare un problema ma allora andiamo dall'altro lato cioè dall'altro lato devo andare a dare i soldi a questo qua poi ci darà uno zaino grandicello no immagino di si dobbiamo adesso fare subito un altro ordine di cochina così quando la ballena ci rifà l'ordine siamo già pronti anche perché qua dobbiamo aspettare tre ore quanta ne prendiamo però prima di tutto vediamo quanta ne abbiamo 50 e 90 no va bene abbiamo veramente po' aspetta però 90 ma queste sono diverse sono diverse dobbiamo sempre farla da capo quindi 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 si adesso andiamo a riciclare un pochino di soldi signore perché ne abbiamo un pochino tanti quindi facciamo una cosa siccome nella aspetta un attimo perché qua dobbiamo fare una cosa tecnico tattica mettici quelli che ci entrano e voglio vedere se perché la valigetta quanta roba tiene 300 questo qua 600 ok aspetta devo lascia un attimo le bottiglie d'acqua ci dobbiamo mettere i sordi signori dobbiamo andare a riciclare abbastanza allora buttalo un attimo qua poi dobbiamo fare parecchi passaggi perché qua dentro sta casa non c'entra un cazzo valigine aspetta ma io in bagno avevo messo le valigie con i soldi o sbaglio no forse li ho riusati però li ho riusati mi sembra mo controllo ma abbiamo altri soldi qua no no li avevo usati per ripagare dei debiti giustamente metti quelli che c'entrano peccato che l'armadio non funzioni in questa casa sarebbe stato utile certo anche se si prende il 20% che è tanto però 220 dollari mettimeli in tasca che cazzo putta la valigia in bagno mettiamo le valigie quelle con i soldi signori tac a posto 30.000 massimo ok vabbè mo ricicliamo un po' sti soldini dopodiché intanto facciamo un ordine di cochina da eddy eh ma devo ordinare pure altre cose aspetta non solo la cochina la cochina abbastanza però anche altre cose mi servirebbero perché qua abbiamo vabbè la coca qua da dare si la meth no la meth la devo ordinare per questo lato ce l'abbiamo dall'altro però diciamo un po' la lasciamo di là eroina vabbè ce l'abbiamo qua dentro anfetamina estasi allora meth anfetamina no no anfetamina si si meth anfetamina estasi facciamo così e cochina andiamo con un mezzo chiletto si può fare quant'è si può fare certo non ci entrerà nello zaino poi vediamo dai va bene intanto sempre tre ore ci mette ok ora gustavo avevamo fatto dove stava quello era questo che riciclava i soldi il 40% si prende non il 20% puttana troia vabbè sei un bastardone però signori il 40% è veramente una bastardata eh sei per strada pure tu madre è per strada lo sai vabbè i soldi li facciamo però insomma mi sembra eccessivo eh 40% mi sembra eccessivo mo o facciamo perché tanto alla fine con la ballena ci fanno una manicata dei soldi però però comunque sei figlio di mula passo di qua che vado a prendere le bottiglie d'acqua no non vado a prendere le bottiglie d'acqua perché non entrano nello zaino dobbiamo fare andate a ritorno andate a ritorno c'ho solo dei soldi credo andiamo un po' mo ci riferma vedete no no perché di solito si impala attenzione quello cerca droga ma è scortato dalla poliz non mi sembra proprio il caso scusate eh devo riciclare del denaro e ne abbiamo un 30.000 dai andiamo a riciclare 30.000 si ce li ho però sei un figlio di puttana eh tu lo dichi in amicizia vai a cagare allora adesso andiamo a quello dei mobili per andare a no ma 30k in contanti chi è che non ce li ha un attimo eh è nato si in amicizia che fa non te li porti a posto ok allora grazie leonessa grazie per i 27 mesi grazie mille grazie mille per la resab ce l'hai l'acquetta no dai cazzo ordina l'acqua ma che te pare che poi le bottiglie mi servono neanche l'acqua l'acqua ce la metto io ma almeno dammi le bottiglie comunque 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 andiamo dal tipo che vende i mobili andiamo a mettere un po' però mo ci abbiamo una manicata di soldi in bank cioè una manicata di soldi in bank potevamo averne di più potevamo averne di più onestamente però allora era sempre mortuario a centro quella casetta che avevamo allora mi serve un po' di roba allora il problema il filtro dell'aria ce ne ha 5 in quella casa magari ne allora filtro dell'aria me ne mandi facciamo tutto all'altra casa dite sti cazzi spero di non sbagliare casa potrebbe essere un problema la facciamo solamente coltivazione coltivazione però un mobile mi serve ci metto un guardaroba solamente guardaroba semplice questo è più piccolino utilizzato per cambiare i vestiti ah no questo è diverso e dismettere la modalità fuggitivo eh vedete questo è diverso da quell'altro vabbè a me serve il guardaroba semplice in realtà fuggitivo vabbè sti cazzi tanto uguale allora ordine e paga mortuaria centro garage magazzino a mortuaria tanfia mercato vecchio mortuaria centro e questo piccola casa abbandonata mortuaria ovest magazzino nel deserto sarà questa la piccola casa abbandonata 65 metri quadri rispetto nelle aree di vendita vabbè sti cazzi penso sia questo vabbè famo questo dopo di che secondo me possiamo comprare anche qualche aia daniela dip ha fatto l'overdose di eroina vabbè se non siete capaci non è colpa mia nel senso scusate colpa dell'incompetenza di queste persone che fanno cose che non devono fare ora queste quale dobbiamo andare ad annaffiare nel dubbio io andrei quindi andiamo a prendere come dice Scevechenko prendiamo le bottiglie d'acqua che in realtà erano 6 ma non so non erano 6 le bottiglie d'acqua se sono sbampate credo di si abbiamo anche dell'altra erbetta outdoor il problema è che qua non abbiamo acqua acqua sufficienza abbiamo 6 bottiglie secondo me no so che cazzo di fine abbiamo fatto dove ne la buttate vabbè magari stanno dentro a qualche zaino io mi ricordo che ne avevamo di più sarà la mia memoria che non è proprio il top però non lo so no va come detto poi compriamo qualche altra casetta perché magari qualcuna da ste parti mo tipo io quelle piante non le posso annaffiare neanche tutte e un'altra cosa che non mi piace no forse adesso un pochino ce l'ho togliete dal cazzo non ci segna sempre tutte le nostre case il magazzino eh oddio magazzino nel deserto dobbiamo non mi ricordo neanche qual è il magazzino nel deserto però dove sta se volessimo comprarlo aspetta mi sto a perdere ah no siamo giusti formula 1 in live non lo so vediamo qua l'acqua ci serve a noi vediamo quante ne moriranno di queste piante allora no in realtà l'acqua ce l'hanno pure cioè abbiamo tempo per ma come due unità usate ah no due di una bottiglia ok no allora se può fa eh no se usava due bottiglie per una pianta insomma c'è una setona ok no no allora così va bene hai voglia hai voglia così ci bastano le bottiglie vabbè stiamo quasi a metà della crescita Dubai si attiva tutta Dubai sativa è questa si qua vabbè la police non ci viene che cazzo ci viene a fare non possiamo comprare tipo sta fattoria qua e facciamo una cosa più sportiveggiante vediamo un po' no sto vedendo cosa altro si potrebbe fare in realtà perché di giorno insomma gli ordini possiamo tenere d'occhio non pure ritirare i soldi mi sa che aumenta un pochino il fatto che diamo nell'occhio quindi sarebbe da evitare anche quello però intanto riempiamo le bottiglie eppure questa è fatta poi o andiamo a piantare un altro pochino di roba outdoor si potrebbe anche fare scusa perché quella non me l'ha riempita con quale barbonaggine mi scusi che fa una alla volta eh se devi fare una cosa falla bene andiamo a piantare un altro po' signori magari ritiriamo qualche spicciolo dai nel mentre vabbè per il momento mi direi di fare a baraccopoli eee yes salvatina no tra pochino andiamo a cucinare signori don't worry c'è una una pasta sportiveggiante eee eee approfittiamo anche per ritirare i soldi per quanto come detto controlliamo un attimino l'attenzione quanto sale con i soldi vabbè così siamo dei ninja mega power attenzione perché ci dovrebbero iniziare a dare parecchi soldi adesso perché avevamo fatto una grande distribuzione di perquisizione vabbè non c'ho niente di particolare i semi li possiamo tenere don't worry oh ma se non c'ho cose illegali ti incazzi guarda questo ma te pare il caso eh si dammi soldi si ma questi grandi quantitativi di moneta che fin hanno fatto signori che sta maffa che sono sti spicci se puoi vedere allora no quello sta là sotto va bene dove sta imboscato grazie mille jo grazie a jo best per gli undici mesi grazie mille jo grazie per gli undici mesi di resab ma come 300 dollari ma veramente siete dei balboni allora si pianta si può piantare qua fino a un certo punto allora vediamo un po perché no questi sono outdoor mi sono cagato sotto ho detto oddio ho sbagliato a mettere piante no va bene facciamo una montagnola la montagnola della felicità che poi qua vicino ci stanno magari quelli che cercano la droga spero non la vedano questa montagnola perché se no non la cercheranno più la droga nel senso non ce la chiederanno più ma si auto attrezzeranno ok vabbè al momento è già idratata sta tutta a post pronti qua grande montagnola andiamo a ritirare gli altri soldi va va eh quella vabbè dai sta abbastanza isolata signori il cimitero vabbè può essere che magari qualcuno andava a trovare qualche parente e potrebbe aver dato nell'occhio quella strana piantagione però là dietro chi ci va dai per quanto ci sia la zona diciamo dei a baraccopoli magari vediamo uno di quei barboni che prima abitava la baraccopoli andare in giro in ferrari e lì ci possiamo un attimino fare delle domande dove cazzo stanno queste scuse madonna come si mimetizzano eh e che a me sembrano un po' pochini questi soldi che ci stanno dando sbaglio 600 dollari io gli avevo dato quantitativi abnormi 600 dollari è una barbonata signori secondo me ci stanno a fregare questi 600 dollari è veramente poco per tutto quello che gli avevamo dato questi mi sa che stanno a fare un po' i furbetti no magari non gli avevamo dato troppe droghe pregiate ma prima ce ne davano di più molti di più arrivato il pacchetto dove è arrivato il pacchetto e vedi che tu madre è una valdracca dall'altro lato è arrivato il pacchetto e questo è un grosso problema perché noi a parte che quello lo dobbiamo ci abbiamo pure le cazzo di bottiglie d'acqua aspetta aspetta fatemi lascia le bottiglie d'acqua acqua queste le posso lasciare per terra nel mobile ci metto un attimo i soldi signori poi ripassiamo qua poi ripassiamo ricordiamoci in realtà perché calcolate che non entreranno tutte nello zaino quindi un po' le dobbiamo lasciare magari le lasciamo alla casetta nuova quella lì oddio drag dealer non lo so da quanto lo stiamo facendo andiamo un po' no no niente magari al ritorno sì 150 dollari non è che siano tanti tutto sommato si potrebbero anche pagare mo vediamo un attimo perché anzitutto andiamo a recuperare più che altro non li vorrei pagare per il semplice fatto che non entrerà tutto in questo zaino quindi dove sta a mezzo i fiori yes allora tac 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 e ah no ci entra tutto ci siamo portati lo zaino da pro allora salve questa in linea teorica dovrebbe essere la casa dove volevamo fare la nostra piantagione vediamo se è giusto ok abbiamo fatto consegnare le cose al posto giusto allora iniziamo a piazzare i vasi per la coltivazione in doll dai ok facciamo una stanza bella piena signori perché qua poi la casa piano piano la riempiamo tutta ah sono finiti i vasi mostrati che cazzo allora questo 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 lo potresti mettere anche qua all'angoletto in realtà giusto per dopodiché le luci le luci le luci qua facciamo una e due penso potrebbero anche bastare e di filtri signori ce ne mettiamo una manicata allora uno due tre quante piante sono tre sei otto tre filtri per otto piante dovrebbero andare bene signori in linea teorica no grazie mille thunder grazie a thunder per i due euro maratona sportiveggiante grazie mille thunder grazie di cuore secondo me dovrebbe andare bene le luci illuminano bene volendo possiamo anche accendere questa è onesta dai madonna fa più luce quella che le nostre però e direi che può andare bene così allora allora salviamo perché adesso andiamo in giro con un pochino di roba potremmo già iniziare a piantarle però aspetta che i semi ce li abbiamo qua andiamo a prendere i semini se se otto 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 prendiamo gli otto semini indoor due 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 indoor guarda mettiamo tutti questi sti che ci entra grande la quetta l'abbiamo lasciata no la quetta ce l'avevamo qua ok poi la lasciamo naturalmente nell'altra casa mi porto un pochino di soldi che magari passiamo direttamente tramite il passaggio 200 dollari ok grazie alessio grazie per i 200 bits grazie mille crescono crescono 12 con 3 4 luci addirittura troppe luci vabbè penso che qua comunque è un gioco signori come fate ad essere così esperti non lo so però penso che se facciamo una cosa cioè ci dovrebbe stare dai linea generale no 1 hai bisogno di filtri dell'aria ok 2 filtri dell'attuale numero minimo di filtri dell'aria 0 filtri dell'aria installati 3 io da quel popappino non capisco un caso perché ricordati innaffiare vabbè queste si ci dice filtri dell'aria installati 3 at num min di filtri dell'aria 0 quindi secondo me voi non lo vedete perché c'è il baracchino però secondo me stiamo a posto qua ci lascio le bottiglie d'acqua inutile che me le porto in giro tanto qua stanno le piante grazie a Ctulio per il primo mese benvenuto Ctulio grazie mille per la sub grazie mille grazie e poi vado a vedere per i filtri dell'aria quando crescono se magari ci da qualche aggiornamento sì vabbè questa la possiamo pure spegnere non cambia molto però come detto secondo me queste luci potrebbero bastare no cioè ce ne possiamo pure mettere altre nel senso sti cazzi tanto poi andiamo a ricomprarle però magari le mettiamo aspetta che non riesco a capire la uno due ce va tre e forse tre è il massimo forse l'ho messo troppo ok vabbè signori più di questo non c'entrano perché non ce le fa neanche piazzare quindi direi che può andar bene così filtri dell'aria vabbè questo lo lascio poi vediamo andiamo andiamo do andiamo eh allora aspettate che non mi ricordo dove sta quello del passaggio questo potrebbe essere un problema non ci facciamo fermare perché se ci fermano non è che siamo fottuti di più 3-4 luci 3 filtri beh allora ci stiamo sta nella zona del porto io mi ricordo che stava dove sta la zona del porto mi sa che stava da ste parti però vattela a pesca grazie leonessa grazie per le tre sub regalate grazie mille grazie mille leonessa grazie per aver regalato la sabba francesca canon e piero io mi ricordo che stava da ste bar tipo s eh non mi ricordo dove cazzo si dovrebbe vedere il tipo che eccolo qua eccolo qua eh si dove conduce posso entrare ma come 350 è un po' troppo vabbè no vabbè il cazzo non ce l'ho me ne ero portate 200 ma non li posso sparare andare cioè scusate noi che siamo della brava gente noi facciamo tante cose illegali sparai e passa no sti cazzo ingegomenti avanti brutacci sua brutto stronzo eh apri va fanculo anche a te stronzo allora cerchiamo di arrivare a casa tu sei l'amico di quello eh mortacci vostra preferisco lanciare lo zaino onestamente se dobbiamo fare ste cose comunque spero che la ballena adesso mi ricontate o gustavo chi per loro perché insomma dobbiamo consegnare altra roba altra roba tanta roba ora 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 prima di tutto andiamo a casa a lasciare questi quantitativi di robe che ci abbiamo accumulati e lui che è passato con noi che dove vede se era eh vedete anche ritirare i soldi fa aumentare l'attenzione nei nostri confronti quindi meglio evitare cioè vabbè moglie abbiamo ritirato i soldi però ora ci servono secondo me più barattoli iniziamo ad avere problemi di barattoli allora qua avevamo 56 di eroina più bicarbonato che non è compatibile con questa che sono 120 così come questa coca e bicarbonato non è compatibile con questa immagino te pare stiamo pieni di roba random qua mannaggia la puttana allora innanzitutto questo sono 100 di amfetamina questa la dobbiamo mischiare ecstasy no l'estasy la metto così e va bene mettiamola un attimo là la metto pure la mettiamo 100 di coca poi vediamo allora intanto no sbagliato facciamo che ecstasy 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 buttaci dentro questi altri ci vogliono dei barattoli più più importanti la met me la metti qua tacchete ci rimetti pure quella la met l'avevamo consumata quasi tutta l'eroina come detto ci rimane qua l'anfetamina la dobbiamo tagliare così come la cochina grazie mille a sissy bj per i 2 euro grazie mille sissy bj grazie per i 2 euro grazie per la donation un piccolo contributo e buona maratona sportive gente a tutti grazie Ale grazie a te per la donation grazie mille ci dobbiamo lavorare un pochino ci dobbiamo lavorare un pochino perché di questi ce ne servono qua un altro tavolo non lo possiamo neanche mettere ci sta stretta questa casa ci sta stretta questa casa converrebbe iniziare a preparare la cochina ma dobbiamo fare un po' di spazio quindi facciamo che spostiamo un po' di roba met erbina e questa che abbiamo già fatto le mettiamo da quest'altro lato questa la dobbiamo preparare questa pure la met la mettiamo qua l'erbetta la metti qua 50 coche bicarbonato la metti qua e qua iniziamo a preparare allora l'anfetamina quanto ce n'è 12 fetamina più ibuprofene e là ce ne abbiamo 68 quindi a questo punto direi di preparare prima l'anfetamina che lo facevamo con l'ibuprofene ne abbiamo 100 ne dobbiamo mettere 20 ce ne abbiamo 7 allora vedi che tu madre arrivi a a parte che questa è coca se vogliamo prepariamo la cochina tanto sempre bicarbonato ibuprofene lo dobbiamo andare a comprare quindi non abbiamo fatto niente mettimi l'anfetamina qua e la cochina piazzamela così grandi quantità di dobbiamo andare a prendere bicarbonato e ibuprofene soldi non ce li abbiamo quindi ce li abbiamo qua mettimici non so quanto possiamo spendere in bicarbonato ibuprofene però vabbè alla fine se facciamo tutto il carico per la balena possiamo pure farlo un po' diverso però oddio soldi penso che possono bastare quanti cazzo andiamo a comprare ste cose e poi andiamo a pranzo signori perché si è fatta una certa allora se la maratona finisce oggi si domani sera facciamo la live normale se prosegue per domani continuiamo allora dimmi che hai un po' di ibuprofene in teoria dovrebbe averlo e costa anche meno della farmacia però controlliamo allora mi dai bicarbonato tutto quello che hai e ibuprofene tutto quello che hai l'acqua ti è tornata in stock no vabbè va bene vabbè il video di MotoGP è appena uscito quindi se volete magari mentre cucino se vi rompete le palle di vedere io cucino intanto poi ci spostiamo con la telecamera ora vediamo di attrezzare tutto andiamo a allora l'ibuprofene io l'ho messo direttamente nel barattolo ah devo comprare dei barattoli piccoli per metterci invece di mettere sto cazzi bicarbonato così come con il ibuprofene lo buttiamo lì che facciamo prima uno due oddio mettile pure là sotto perché non so quanti ce ne entrano in realtà ok ora ibuprofene 8 grammi buttali ah no lo dovevo tritare è vero qua dentro cosa c'è 32 di ibuprofene ah è vero l'avevo già tritato l'ibuprofene buttalo nel barattolo va a posto si almeno ce l'ho ce l'ho già pronto in generale signori che facciamo prima misceliamo tutto così cioè misceliamo tritiamo e lo mettiamo nei barattoli poi andiamo a ordinare dei barattoli grandi che ci entrano 40 allora macina questo e yes noi li andiamo a prendere subito se non mi scordo almeno arriviamo con la conclusione di di barattoli creazione di barattoli e cose varie ho sbagliato strada non mi ricordo devo andare per forza in farmacia più è barattoli perché la signora qua non si è più vista e mi sa che non vendeva neanche quelli grandi quello del no la signora qua è scomparsa questo qua vendeva qualche barattolo no mi sa di no no vedi che sei stronzo no cioè i barattoli sono piccoli già ci avevo provato mi serve il barattolo grande i barattoli piccoli sono troppo piccoli sono troppo piccolini allora io devo recuperare da questa casa anche delle cose che avevo lasciato dell'acquetta e dei soldi così a caso in realtà ci avevamo anche dei soldi nella stanza si si ci abbiamo un 5000 dollari ci abbiamo soldi sparsi negli appartamenti così a caso in realtà questo era l'appartamento proprio per depositare moneta ma questi piasteggiano 24 su 24 apparentemente si dai che cosa che rompipalle si si noi in farmacia ci stanno ci stanno ci andiamo alla prossima andiamo a mangiare andiamo a mangiare allora allora qua devo lasciare il bicarbo vabbè li lascio nello zaino sti cazzi salviamo ok e va bene signori allora ritorniamo in camera in camera